No! 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 Non posso licenziarci perché abbiamo parlato! Loro dicono che lavorano, non stanno qua! Molti di loro hanno un permesso di soggiorno che una volta che perdono il lavoro perdono anche il diritto di ritare con in Italia Per quello loro sono qua! Non vale che il primo articolo della Costituzione italiana dice che è fondata sul lavoro i lavoratori vengono trattati non vi vergognate ditemi non vi vergognate vi mandano al Parlamento non vi vergognate